Basta con la retorica della politica, ora occorre una strategia condivisa che renda competitivo il territorio da un punto di vista infrastrutturale e che dia risposte immediatamente cantierabili in Val di Sangro per evitare che si perda il primato produttivo della Sevel e dell'intero polo dell'automotive abruzzese. A sostenerlo sono Leo Malandra e Domenico Bologna, rispettivamente segretari generali della CISL e della FIM CISL per Abruzzo e Molise, che puntano il dito sulle colpe della politica degli ultimi anni che, propagandando più che governando, si è fatta sfuggire a occasioni importanti come il campus dell'automotive e gli investimenti sulle infrastrutture, tanto da far perdere attrattività all'intero territorio. Da qui, presumibilmente la scelta di PSA di produrre in Polonia 100.000 nuovi furgoni in aggiunta ai 300.000 annui della Sevel, che tanta preoccupazione sta sollevando in questi giorni. In Sevel il costo del lavoro incide del 10% sulla spesa totale, mentre le voci maggiori sono rappresentate dai costi infrastrutturali e logistici unitamente a quelli dell'energia. Per questo, sostengono i sindacalisti, è necessario tornare a investire rendendo la Val di Sangro immediatamente cantierabile affinché si dia nuovo impulso a una politica di competitività industriale del territorio in vista del 2023, anno in cui scadrà l'accordo tra FCA e PSA, aprendo nuovi scenari economici ed occupazionali. Noi dobbiamo rendere competitivi i nostri territori. Questo è quello che chiediamo alla nuova politica, alla nuova giunta regionale. Meno parole, più fatti, perché questo è l'unico modo per rendere competitivi i territori e attrarre imprenditori a lavorare sulla nostra regione. Infrastrutture più agevoli, più funzionali. La cantierabilità di questi progetti richiesti ripetutamente dalla più grande industria, non solo d'Abruzzo, ma d'Europa, non ha avuto nessun tipo di riscontro. Noi temiamo che la politica sia uno degli elementi che potrebbe sia far rimanere le scelte decisionali di Sevel ad operare in Abruzzo, ma anche la possibilità che noi vorremmo scongiurare di una Sevel che piano piano si disimpegna dall'Abruzzo. PSA ha annunciato che farà circa 100.000 furgoni in Polonia dal 2021. Bisogna stare molto attenti, nel senso che dobbiamo cercare di convincere PSA a non smobilitare sul nostro stabilimento, ma per far questo bisogna migliorare le cose che noi da anni stiamo denunciando, quindi a livello infrastrutturale, quindi porti, le strade e altro. Se non facciamo questo probabilmente perderemo un'eccellenza dell'Abruzzo. Noi abbiamo una zona industriale in cui da 20 anni, ma anche più, nessuno sta facendo un euro di investimenti.